Massimo Bitonci, perché la Lega Nord non concede la fiducia al governo Letta? Voteremo convintamente contro la fiducia a questo governo, che in questi mesi non ha fatto assolutamente nulla. Abbiamo dati economici disastrosi, abbiamo avuto un calo dei consumi molto importante, una disoccupazione al 12,5%, il 42% dei giovani che non trova posto di lavoro, si parla di 6 milioni tra disoccupati e inoccupati e così noi pensiamo che ci voglia una svolta veramente importante, devono essere applicati i costi standard come grazie ai nostri governatori si farà in campo sanitario ma non basta, bisogna tagliare le pensioni d'oro, il finanziamento ai partiti, bisogna andare avanti su quelle riforme strutturali come è stato fatto poi nel 2005 e non confermato poi dal referendum del 2006, che aveva già previsto la riduzione dei parlamentari e la trasformazione del Senato in Senato federale. Per tutto questo noi voteremo contro a questo governo e contro la fiducia al presidente Letta.